Tutt'altro argomento, parliamo infatti di disturbi alimentari, una patologia purtroppo sempre più diffusa e che oggi colpisce anche i bambini in età pediatrica. Se ne parlerà domani al convegno organizzato presso il Parco Tecnologico del Neuromed di Pozzilli. Una vera emergenza sociale è quella di disturbi alimentari, una sorta di epidemia che coinvolge oggi circa 3 milioni di italiani. Si tratta essenzialmente di disturbi della mente, problemi psicologici che, invadendo subdollamente idee e pensieri dei ragazzi, precedono i più tangibili cambiamenti fisici, segni più facilmente riconoscibili della malattia, quali, ad esempio, l'eccessiva magrezza. E su tale complesso fenomeno, domani, a partire dalle 9, un focus presso il Parco Tecnologico del Neuromed di Pozzilli. Nella sala conferenze è previsto infatti un ECM che metterà in luce le caratteristiche principali di questa patologia, per la quale, fondamentalmente, è il processo di prevenzione. I disturbi alimentari, identificati fino a qualche decennio fa solo nell'anoressia e nella bulimia, hanno subito una profonda mutazione, con diversificazione dei disturbi, prima tipicamente femminili, ma che da circa 10 anni hanno coinvolto anche gli uomini. Esistono quindi nuove espressioni della patologia, prima sconosciute, quali la bioregressia, ovvero l'ossessione per un'eccessiva muscolatura, e l'ortoressia, vale a dire l'ossessione per il cibo sano. Così come in aumento sono i casi di DCA, addirittura in età infantile o preadolescenziale. Ma in concomitanza con l'aumento dei casi, procede di pari passo la ricerca scientifica, che, facendo tesoro dell'esperienza clinica, molti progressi ha potuto fare nella cura di tali disturbi. Cura che, come sottolineato dai laboratori Neuromed, conta molto su elementi cruciali, quali la prevenzione e la diagnosi precoce. Instabilità emotiva, irritabilità e sbalzi d'umore vanno sempre considerati campanelli d'allarme da sottoporre all'attenzione del proprio medico o pediatra, segnali che domani, presso l'IRCS di Pozzilli, saranno approfonditi a vantaggio sia di figure professionali coinvolte nel processo di prevenzione, diagnosi e cura, sia di tutte le persone interessate a conoscere gli aspetti di un problema ormai, purtroppo, sempre più diffuso.